Ciao Alexandra, ebbene sì, sono già in compagnia non di un ospite, non di due, bensì di cinque ospiti, quindi siamo partiti veramente alla grande, ogni promessa è debito. Sono qui in compagnia dei Nirkiop, come accennavamo prima, questa è una serata dedicata alla comunicazione, anche alla comunicazione digitale, al mondo di YouTube. Innanzitutto, vi vedo anche in una mise proprio da dress code, che impatto vi ha fatto questo palazzo mezzanotte? E volevamo dire in felpa, come siamo abituati a vivere normalmente. No, è sempre un onore e un piacere, soprattutto, entrare in questi ambienti e cambiarci d'abito, soprattutto, e conformarci ogni tanto a ciò che ci circonda. È bellissimo, cioè è un piacere essere qui e non vediamo l'ora di vedere cosa succede qui dentro. Ne vedrete delle belle, come si suol dire, questa volta vi faremo noi la festa. Anna, attenzione, tu sei l'unica donna tra tutti questi baldigiovani, qual è il tuo segreto per sopportarli? Ma io credo che alla fine sono diventata uno di loro, diciamo, comunque sono cresciuta con un fratello che è lui, mio fratello gemello, quindi so gestirli, riesco a gestirli. L'unica cosa è che è stato carino indossare un vestito stasera e ricordarmi di essere una donna. Stavo per mettermi la cravatta, come loro. Quindi eravate tutti intero, no, invece, bellissima anche la tua misa. Veniamo a voi con le domande difficili, invece. Sbaglia morata. Giustamente. Allora, se doveste individuare, siete in tre. Tre consigli da dare a chi vuole fare comunicazione attraverso il web. Uno a testa. Sincerità. È fatta, ciao. Vedetevela voi. Innovazione. Poi dopo me le declinate, però. Essere se stessi, che è importante. E se adesso vi chiedessi, invece, dall'altra parte, per mantenere comunque, perché adesso ci sono tante web star, da YouTube molto si sta spostando anche su Instagram, come gestire anche questi cambiamenti? Ma guarda, il segreto è reinventarsi continuamente. Noi cerchiamo di mantenere un format che sia sempre orizzontale e verticale allo stesso tempo, in modo tale da prendere il più pubblico possibile e da poter parlare a un pubblico diverso, con uno slang, un linguaggio sempre diverso, in modo tale che possiamo essere il più possibile aperti a tutto. Quindi, diciamo, se riuscite a parlare a più gente possibile è meglio. Quindi, l'apertura e l'inclusività saranno anche dei termini che ritorneranno. Se non ci sono altre suggestioni, so che avete visto anche le auto qui, poi le mostreremo. Un po' dispiaciuti perché abbiamo parcheggiato lontano, potevamo parcheggiare qua dentro, però non è la prossima volta, il prossimo premio vediamo. La prossima volta, però è un plus, è un plus, diciamo, per le volte successive. Allora, io ringrazio assolutamente i NIRCHIOP per essere stati qui con noi, li rivedrete più tardi, io dico solo questo. Per il momento, Alexandra, da Palazzo Mezzanotte è tutto, cedo a te la linea allo studio.